Un punto di incontro tra le cure assistenziali intensive è la presa in carico della persona in tutte le sue dimensioni, inclusa quella psicologica e relazionale. L'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino apre le porte ai familiari dei pazienti inaugurando la cosiddetta rianimazione aperta, rispettando alcune regole necessarie per tutelare la salute e la privacy dei leggenti, parenti e amici potranno stare quasi ininterrottamente accanto ai ricoverati. L'iniziativa è stata presentata questa mattina. Passiamo dal curare al prenderci cura e finalmente l'ammalato viene messo al centro di questa filosofia, dando quindi una maggiore importanza alla sua individualità e oltre questo chiaramente anche i parenti avranno un ruolo molto importante. Essere meno isolato, avere di fianco i parenti rende il nostro paziente sicuramente meno stressato, avrà meno problemi d'ansia e soprattutto anche per i parenti ci sarà una diminuzione dello stress sapendo che c'è un ammalato in un reparto così particolare come il nostro. A volte noi dimentichiamo che il ricopro di rianimazione, anche se breve, può essere un passo per un percorso molto più lungo di malattia che per alcuni pazienti determina un'alterazione continua della propria vita. Cambierà sicuramente il corso della vita di questi pazienti e anche della loro famiglia. Quindi riuscire a evitare quelle barriere funzionali, fisiche, relazionali, l'area cioè la possibilità ai parenti di poter entrare più ore, star vicini ai loro parenti, dà sicuramente dei benefici che sono stati visti e studiati da più anni insomma.